come risolvere l'errore riguardo al file cab che è necessario per risolvere un problema riguardo a un'installazione di directx sulla scheda video ovviamente se riscontrate questo errore riguardo al punto cab è possibile fare un'installazione completa di questo file attraverso il directx redist giugno 2010 che ti ho lasciato in descrizione quindi in questo caso tu vai a scaricare così questo programma io vado a mettere così la mia lingua faccio scarica scarico così il redist eccolo qua una volta scaricato andiamo un attimo su questo pc andiamo così a creare una cartella direttamente che ne so su un disco qualsiasi per esempio disco locale c dove tengo il mio window e faccio così crea una nuova cartella quindi faccio un nuovo cartella e la chiamo directx e faccio il bio una volta fatto teniamoci così questa cartella e andiamo a installare così questo setup questo redist faccio i segui come amministratore e faccio i segui come amministratore e faccio così faccio così browser ok vado a prendere così la mia cartella quindi vado direttamente nel disco quindi volume d volume e ok ok devo solamente trovare la cartella eccolo qua eccolo qua squisco locale directx eccolo qua faccio ok una volta fatto faccio ok farò l'estrazione a tutti i file una volta estratto entriamo così nella cartella directx eccolo qua scendi fino a giù fino a trovare il dx setup esegui come amministratore e facciamo così una volta fatto ed eccolo qua accetto il contratto e faccio avanti faccio avanti e installa così il componente è ora possibile utilizzare i componenti installati e facciamo fine una volta fatto chiudi tutto e riavvia il tuo sistema operativo per completare così l'operazione se questo video ti è stato utilissimo come risolvere i problemi riguardo al file .cab riguardo all'errore dell'installazione del directx per la scatavideo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao